La Provincia dei Comuni è una nuova e grande sfida da accogliere come un'opportunità, come un'occasione per i singoli comuni che finalmente potranno essere anche più rappresentativi, protagonisti e custodi di un territorio più vasto. Vedo la Provincia dei Comuni come un soggetto nuovo che apre un orizzonte in cui sarà possibile amministrare, programmare in maniera coordinata, quindi attraverso delle convenzioni, attraverso una progettazione di area vasta e perseguendo l'ottimizzazione dei costi. Solo così sarà possibile tutti insieme a poter garantire tutti quei servizi che sono diventati rispetto al singolo comune insostenibili. Grazie.